In questi ultimi giorni sono stato un po' al di fuori della disputa politica e sociale, non mi sono potuto interessare per un gravissimo lutto che ha colpito la mia famiglia, però ho deciso che la lotta continua, non ci si ferma, qualsiasi cosa accada. La cosa che mi ha colpito è stata la manifestazione di sabato, anzi le manifestazioni di sabato 2 marzo. Come tutti voi sapete ce n'è stata una grande di 250.000 persone a Milano e l'altra purtroppo molto ma molto più piccola di qualche migliaia di persone a Roma. Due manifestazioni, una contro il razzismo a Milano e l'altra per l'autodeterminazione dei popoli africani. 250.000 contro poche migliaia, per quale motivo? Io questo sinceramente devo ancora capirlo, devo ancora capire perché noi siamo noi, perlomeno una parte della popolazione italiana è bonista, una parte della popolazione italiana pensa che gli altri siano degli sporchi razzisti, fascisti, magari anche omofobi, mettiamola lì, proprio populisti, guerra fondai, ecco noi siamo noi perché io faccio parte di quella minoranza, cioè la minoranza che vorrebbe un'Europa è un'Italia diversa da quello schifo che è stata fino adesso, da quel profondo schifo e io nutro un profondo disagio, per non dire peggio, contro quelle persone o la maggior parte che comunque a mio avviso e lo dico senza nessun problema sono state politicizzate domenica a Milano, 250.000 persone che manifestavano contro Salvini. Premetto che io non ho votato Lega, non ho votato Movimento 5 Stelle, alcuni atteggiamenti di Matteo Salvini a me non piacciono, altri atteggiamenti di Conte e di Di Maio non piacciono, però cerco di farmi piacere un'Italia che vuole cambiare. Ora io conosco Conare, ho aiutato Conare nel mio piccolo più di un mese fa a far partire questa pubblicità della manifestazione. Ho anche collaborato all'invio dei fondi, alla richiesta dei fondi per poter muovere qualche migliaia di persone da Milano a Roma. Il giorno prima, grazie a una persona che di cui non so se posso fare il nome, ma lo voglio fare perché no, non c'è nessun problema, Luca Massimo Climati, un grande romano e un grande italiano, ha aiutato i ragazzi di Conare a poter scendere e prendere il pullman, una colletta per prendere il pullman. Quindi poche migliaia di persone sono costate più di 3.000 euro, va bene? Ora diamine hanno fatto a spostare 250.000 persone, va bene, mettiamo che 30.000 erano di Milano, gli altri erano da tutta parte d'Italia, ragazzi senegalesi, africani, marocchini, di qualsiasi tipo, che i nostri, i nostri che vogliono l'indipendenza dell'Africa con Are in testa, hanno avuto dei seri problemi e stanno raccogliendo fondi da un mese, gli altri sono arrivati a Milano 250.000, accompagnati dai PD, accompagnati dalle associazioni sindacali e tutti erano lì, 250.000 persone. Questa manifestazione è stata portata poi da Mass Media nel carrozzone delle elezioni europee. Ora io credo che c'è qualcosa che non va, come lo credete voi, non mi fido più di nessun cambiamento dei mass media. Io guardo pochissimo la televisione, mi sono riavvicinato ad essa circa un anno fa per vedere più che altri notiziari e ho un rifiuto, un rigetto assolutamente irreversibile ormai si può dire. Quando io sento, scusate il gossip, che Fazio è andato a intervistare Macron, sinceramente penso ai grandi giornalisti come Biagi, come Idromontanelli, come Minoli, come giornalisti. La storia della nostra democrazia e Fabio Fazio con le sue domande del tipo cosa ne pensa lei di Gile Gialli è andato da Macron, un altro personaggio che per me dovrebbe essere destituito immediatamente, perché il popolo francese oramai non lo vuole più. Comunque a parte questo. Ecco allora io quando penso a quest'Italietta, e la chiamo questa è l'Italietta, l'Italietta è quella parte di popolazione perché gli pagano il panino sul pullman, gli pagano la trasferta a Milano, tanto era anche una bella giornata di sole, vanno a manifestare contro il razzismo, cioè noi italiani l'altra parte è razzista, che vogliamo i muri, vogliamo abbattere e affondare le navi di immigrati davanti alle coste italiane, questa è una profonda vergogna di cui ne sono assolutamente indignato, ne sono indignato perché dall'altra parte a Roma stavano protestando invece con la parte di africane che vogliono che i loro giovani rimangano in Africa, vogliono riprendersi il loro continente, vogliono che i governi fantoccio delle nazioni francofone non decidano più delle sorti dei loro figli, basta piangere i morti in mare, basta piangere i bambini africani che muoiono, loro vogliono riprendersi la loro terra, vogliono mandare via i francesi, vogliono mandare via le banche, le multinazionali, adesso non vi sto a spiegare perché basta che andate a vedere su Youtube, sui miei canali, c'è il non bellissimo, il fantastico editoriale di Franco Fracassi dove fa nome e cognomi di queste ONG che va a reclutare estracomunitari per farle bene in Europa. Io non racconto niente di nuovo, negli ultimi sei anni l'Africa ha avuto un'emoragia di giovani e noi abbiamo avuto un'invasione, perché questa emoragia e invasione doveva essere utilizzata dalla Germania per poter avere manodopera a basso costo e non solo dalla Germania, quindi basta ipocrisia, non facciamo gli ipocriti, io sono tuffo, sono schifato, sono anche arrabbiato, sì è vero, io parlo così, non mi avete mai sentito parlare, forse ho avuto un grande lutto in famiglia, ma questo non è per questo che parlo, perché sono profondamente stanco, perché quando un padre e una madre e una sorella vengono privati del proprio figlio è una cosa devastante e allora io ancora di più mi metto nei panni di quelle povere popolazioni, famiglie africane che devono lasciare scappare i loro figli in Europa e magari muoiono in mare. Io sono profondamente indignato, mi vergogno di quella parte di italiani che sono stati alla manifestazione di Milano, perché se effettivamente fossimo in un governo razzista, fascista sarei io il primo a combatterlo, ma questo non è vero, o perlomeno non è così, se un giorno dovesse essere così allora anch'io prenderò i miei provvedimenti, anch'io mi muoverò in tal senso, ma noi non siamo, non siamo assolutamente, siamo solo un popolo che vuole riprendere la dignità di una vita per i propri figli e vuole aiutare anche altre popolazioni, siamo l'unico paese in Europa che l'unica parte di colonizzazione l'ha avuta nei cento anni, negli ultimi cento anni, Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda, anche Germania hanno avuto colonie, hanno sfruttato colonie per secoli e noi, e noi ci chiamano razzisti a noi? No, questo a me non va signori, veramente, è una cosa che mi disgusta profondamente e io sono qua ancora a dare il mio aiuto a con a re e a tutti quei uomini, veri uomini africani che vogliono che l'Africa diventi un continente dove possono crescere i figli e non una terra di conquista economica, una terra di conquista anche materiale. Grazie e scusate se ho sforato di un minuto e mezzo, vi auguro una buona settimana.